alternandosi poeti che leggeranno le loro composizioni e cantanti musicisti che eseguiranno i loro brani. Allora per i giurati adesso abbiamo sei esibizioni canore inediti e sei poesie inedite alternate, quindi avete le vostre foglie dove potete prendere gli appunti, alla fine noi faremo alcuni omaggi a Franco e nel frattempo potrete scegliere i tre vincitori in categoria musica inedita e le tre poesie che vinceranno, dando il primo, il secondo e il terzo classificato e poi faremo la premiazione. Ok? Quindi è chiaro per tutti, spero, mi auguro, e quindi puoi cominciare a delinare piano piano i vari artisti. Grazie. Certo, un'altra cosa che volevo aggiungere che non abbiamo detto prima è che una delle condizioni necessarie per poter partecipare a questo concorso era che i brani fossero assolutamente inediti, mai pubblicati e mai avessero partecipato ad un altro concorso. Quindi questa sera siete in qualche modo dei privilegiati perché per la prima volta ascolterete queste composizioni. E cominciamo subito, chiamo sul palco Valerio Rossano che ci canterà come Mario Bros. Buonasera a tutti.